Bene, buonasera a tutti e benvenuti nuovamente. Vi volevo chiedere prima di tutto, prima di cominciare, se il microfono si sente bene o prima. Lo abbasso un pochino. Eccoci qua. Se sentite bene il volume della voce, perfetto. Chi non dovesse vedere l'immagine, in basso a sinistra c'è il quadratino della telecamera e se c'è il cerchietto rosso, cliccateci sopra che appunto ridiventa bianco e in teoria si vede l'immagine. Per chi non sente è un problema, ma magari devo scrivere qualcosa nella chat. Bene, quindi un doppio benvenuto alla Self Help Academy, Self Help Academy in realtà. e questo iniziativa, questo progetto è nato da un'idea di rendere accessibile e praticabile soprattutto una determinata conoscenza. Noi oggi siamo abituati per la maggior parte ad una conoscenza che prima di poterla applicare e passano gli anni, o comunque sia, è una conoscenza nella maggior parte dei casi che rimane libresca e prima di avere la possibilità di testarla sul campo e di avere un ritorno che ci fa crescere, passa molto molto tempo e a volte in questo frattempo ci si stufa e non si pratica più. E allora una delle idee che sono la base del progetto Self Help Academy è stato proprio quello di, e sarà sempre di più, quello di unirsi a persone, e questa sera abbiamo Italucillo in sala, quindi un doppio ringraziamento, di unirsi a persone che sono detentori, detentrici di una conoscenza che sia, a patto che mi impegni ovviamente, che sia di facile applicabilità, applicazione, o comunque sia, non passa troppo tempo tra quando acquisisco questa conoscenza e quando posso metterla in pratica e quando posso crescere attraverso questa pratica. Quindi c'è bisogno appunto di un sapere che sia pragmatico in un certo senso, che posso testarlo fin da subito, almeno nei suoi primi passi. E quindi di qui nasce la Self Help Academy, quindi di nuovo un benvenuto e un ringraziamento a tutti gli ospiti di stasera, che piano piano continuano ad aumentare. Il sito della Self Help Academy, come quasi tutti sanno, è www.selfhelp.academy, con una informazione di diversi argomenti, ma ne parleremo più tardi, dopo l'intervento di Italo, di Italo Cilio, che ci mostrerà questo argomento attesissimo da tanto tempo. Per chi segue Italo, il ritiro di generatore è tanto che Italo lo accenna nel suo podcast tempo di cambiare, ma anche sul sito www.italocilio.it e quindi è sicuramente, l'argomento di questa sera è proprio che una medicina, può essere proprio una medicina per l'anima. Oggi ci sono le medicine per il corpo, ma il ritiro di generatore, se praticato come Italo ci dirà, sarà sicuramente una medicina per l'anima. Di più non entro nel merito, perché adesso abbiamo Italo, e Italo Cilio, per coloro che non lo conoscono, appunto è il direttore e il fondatore del sito web www.italocilio.it, è stato il direttore e fondatore di miglioramo.it, un portale in Italia dedicato alla prosperità, alla saggezza, alla salute, un grande punto di riferimento. e negli ultimi due anni, se non vado errato, abbiamo visto una bellissima metamorfosi miglioriamo.it è stato fermo per un po' di tempo e poi è iniziato ad apparire questo podcast fantastico, Tempo di cambiare, attraverso il quale c'è stata una metamorfosi appunto delle espressioni di Italo nel web che è culminata e poi sta andando avanti chiaramente attraverso italocilio.it. Detto questo ho parlato anche troppo, Italo grazie nuovamente e ecco a te la parola. grazie Marco, spero che mi sentiate bene, grazie Marco, grazie per il tuo invito in questa serie di incontri, grazie per le belle parole con cui mi hai presentato, grazie per il tuo bel appello e invito, o come posso dire, elogio di metodi non astratti o difficili di mettere in pratica ma che siano pragmatici, di facili messe in pratica e immediatamente utilizzabili, è proprio quello che spero io con tutte le mie forze di farò del mio meglio, di riuscire a fare questo oggi, presentarti qualcosa che tu appena finisci di ascoltare questa cosa puoi metterlo in pratica. ti parlerò del ritiro rigeneratore, che è una forma di ritiro individuale, una pratica che si fa in solitudine, lo so la solitudine non è una cosa a cui siamo abituati, aspetta dopo la qualifico e la specifico questa affermazione, perché molti pensano che se vivono da soli già stanno praticando la solitudine e invece non è questo il caso. Questa è una forma di pratica che si fa in solitudine, un ritiro individuale in un luogo solitario, dura 48 ore, quindi chiunque può farla e consiste nello staccare la spina rispetto alle attività ordinarie e in un certo senso riavviare la nostra vita, un po' come quando schiacciamo il pulsante reset di una qualche macchina, come quando riavviamo il nostro computer e questo ci permette dopo aver fatto un completo punto della situazione in cui ci troviamo in questo momento della nostra vita, di ripartire con un nuovo senso di libertà e di felicità. C'è una differenza rispetto ad altri programmi più o meno preconfezionati di sviluppo personale, spirituale e così via, cioè questo approccio il ritiro rigeneratore non cerca la risposta in tecniche già pre costituite, metodi che sono esterni a te stesso e tu poi devi cercare di apprenderli e metterli in pratica il più fedelmente possibile, laddove ciò che funziona per qualcuno non è detto che funzioni per te, al contrario questo approccio consiste nel mettere in contatto te con te stesso attraverso la tua solitudine che è uno degli strumenti di crescita e realizzazione spirituale più antichi che l'umanità abbia mai scoperto, aiutandoti a entrare in contatto e realizzare quella saggezza innata che già si trova dentro di te perché ci si trova già dentro ciascuno di noi, è il nostro diritto di nascita, è quello che noi siamo veramente. Quindi alla fine di questa presentazione io ti dirò dove poter scaricare tutto in maniera tale che tu lo posso mettere in pratica immediatamente, ti dirò dove poter scaricare la guida rapida alla pratica del ritiro rigeneratore, il testo radice, è così che l'ho chiamato, una volta nelle tradizioni orientali antiche si chiamava testo radice, un testo estremamente condensato di istruzioni spirituali che poi però richiedeva una sorta di commento orale da parte dell'insegnante o dell'insegnante che l'aveva scritto o degli insegnanti successivi nelle generazioni successive a cui quel testo era stato trasmesso. Quindi un po' per richiamare questa antica tradizione l'ho chiamato il testo radice del ritiro di rigeneratore che contiene le istruzioni complete con i 12 esercizi che tu svolgerai durante il tuo ritiro di 48 ore, in più il mio commento audio in formato mp3, ogni testo radice richiede un commentario, quindi avrai il testo scritto più il commentario in audio, l'audio conterrà approfondamente insegnamenti sul testo radice e infine un altro simpatico regalo è il diario della gratitudine che è un esercizio che è una sorta di compito a casa che poi ti accompagnerà una volta ritornato a casa e completato il tuo ritiro di rigeneratore. Se ci sono problemi con l'audio segnalatemelo qui nella sala così ogni tanto vengo a controllare e altrimenti io continuo con la mia presentazione. Quindi lascia che ti racconti come nasce questo ritiro di rigeneratore, come nasce questa idea, come nasce questo concetto, nasce da me. Tutti abbiamo una chiamata a un certo punto o magari anche più chiamate soprattutto se non ascoltiamo le prime in certi momenti cruciali strategici della nostra vita, una chiamata verso qualcosa che diriga la nostra vita verso una direzione più significativa dal punto di vista personale, spirituale, della nostra realizzazione interiore e così via. Tutti abbiamo una chiamata o più chiamate, il punto o la differenza è noi rispondiamo o no a queste chiamate, perché le chiamate ci sono, l'universo ci vuole bene, a volte noi facciamo finta di non ascoltarle, continuiamo in strade sbagliate e questo è quello che tecnicamente invece poi le persone ordinari chiamano cattiva fortuna, periodi sfortunati, periodi in cui tutto ti va storto e quello è semplicemente il fatto che noi non stiamo ascoltando la chiamata. La mia prima chiamata, o meglio la prima chiamata che ho capito e che ho ascoltato è arrivata per me a 22 anni, prima ho avuto un incidente in moto, uno di quegli incidenti dove tu rotoli sull'asfalto per alcune decine di metri, vedi il tuo corpo dall'esterno e riconsideri tutta la tua vita, come se guardassi un po' tutta la tua vita dall'esterno. L'anno successivo sono stato messo, quasi immobilizzato a letto da una malattia che poi dopo ho definito malattia spirituale, perché benché a quel tempo, a 23 anni io fossi un fanatico delle diete naturali, dell'alimentazione biologica, della salute con metodi naturali, avevo anche aperto un'associazione di consumatori che si occupava soltanto di questo, inspiegabilmente nonostante facessi lo stile di vita più sano del mondo, ero malato come nessun altro, ecco perché l'ho chiamata malattia spirituale, vuol dire che non avevo ancora scoperto, non avevo ancora ricordato chi ero, chi sono in questa vita, cosa ci sono venuto a fare e qual è la direzione migliore che posso prendere per me stesso e per gli altri, così il modo in cui ho risposto a questa chiamata, cioè reagendomi, mettendomi in piedi, letteralmente prendendo la macchina ancora malato e andandomi a curare con le mie forze, dopo aver capito che la causa poteva essere soltanto interiore, quindi anche la soluzione poteva essere soltanto interiore e non esteriore, non nessun forma di medicine o di rimedi naturali, e così ho iniziato un mio percorso pluri pluriennale nel campo del miglioramento personale, della terapia individuali, delle terapie di crescita, delle terapie di gruppo, diversi tipi di terapie di crescita personale, stiamo parlando della prima metà degli anni 80, stiamo parlando della prima metà degli anni 80 e quindi dovunque ci fossero un po' in giro queste terapie di crescita personale, terapie di gruppo, terapie di ricostruzione personale, io andavo un po' a farle, tra l'altro non ero assolutamente benestante, anzi ero giovanissimo, appena sposato e ultra squattrinato, perché al momento del mio matrimonio era anche naufragato un'idea che avevo e quindi mi sono trovato in un guado fra un passato punto interrogativo e un futuro ancora più sconosciuto, quindi ero totalmente squattrinato per pagarmi le mie terapie di gruppo, andavo sulle colline della mia Puglia nativa a imparare a fare il formaggio dai pastori che allevavano le capre e le pecore, facevo con loro il formaggio, prendevo queste formaggette, le portavo giù in città dove avevo il mio associazione di alimenti naturali, le vendevo, tutti i soldi della vendita del formaggio andavano in un salvadanaio specifico cui mi pagava i gruppi di terapia, questo per me è un esempio di cosa significa quando diciamo non ce la faccio, non ce la posso fare, non me lo posso permettere, probabilmente c'è sempre stata dentro di me una parte che capiva la grande verità del famoso proverbio volere è potere e quindi te lo racconto sperando che questo sia di ispirazione anche per te. Così in quegli anni, da 23-24 anni in poi ho viaggiato tantissimo, ho viaggiato tantissimo in lungo e largo in Italia, in Europa e fuori dall'Europa, in America e così via, sempre per approfondire questo lavoro interiore, terapie di crescita personale, ho viaggiato da solo, sempre da solo, questo è importante ai fini di quello che ti sto per raccontare e se questo ci ritorneremo, perché anche questo ha un significato, mollare tutto e partire in viaggio da soli e così sono diventato un appassionato adepto del miglioramento personale e oggi anche quelli che mi conoscono sanno che uno dei temi dominanti del mio sito italocilo.it è anche l'autonomia individuale, quanto è importante l'autonomia individuale dal punto di vista personale, sociale e spirituale, dal punto di vista personale ho detto e scritto più volte che dei 5 rimpianti cosiddetti, che sono i motivi di rimpianti più frequente menzionati dalla maggior parte dei morenti, il più ricorrente di tutti è rimpiango di non aver avuto il coraggio di vivere la mia vita anziché quella che gli altri si aspettavano da me, rimpiango di non aver avuto il coraggio di vivere la mia vita anziché quella che gli altri si aspettavano da me. L'autonomia personale è importante, scoprire cosa fa cantare il nostro cuore, qual è la direzione migliore per noi che ci appassiona, questo è importante, il contrario, cioè il conformismo, seguire la maggioranza, seguire quello che la famiglia, i vicini di casa, il conformismo sociale, i percorsi di vita obbligati ci dicono di fare, questa non è una buona idea, solitamente ci lascia insoddisfatti di un'insoddisfazione molto molto profonda, che se non ci raggiunge oggi, ci raggiunge fra 10 anni o 20 anni o presto o tardi ci raggiunge e non c'è modo di scappare da questa insoddisfazione profonda, così abbiamo bisogno di scoprire la nostra strada e di seguirla. Lo stesso vale autonomia individuale dal punto di vista sociale, il conformismo, seguire la maggioranza non sono i nostri migliori amici, i nostri migliori consiglieri, molti dei problemi del mondo derivano proprio dal fatto che si prendono per buono quello che dicono i giornali e i quotidiani, anziché pensare con la propria testa e questo è veramente un punto di vulnerabilità nelle nostre vite, sia in quanto individui che in quanto società e comunità. E poi autonomia dal punto di vista spirituale, altrettanto importante, seguire dogmi religiosi preconfezionati non ci fa bene, credere o credere in qualcosa, adorare figure religiose o adorare principi metafisici non è il punto, il punto è cambiare la nostra mente, cambiare il nostro cuore e fare esperienza diretta di quella verità che è dentro di noi, altrimenti il sentiero spirituale è una finta, è una farsa. Ok, così ho iniziato ad ascoltare la mia chiamata, sono partito per il mio viaggio, ho dedicato 5 anni a viaggiare in lungo e largo, completamente dedicati al mio sviluppo personale e dopo questi 5 anni ho fatto un salto nella dimensione dello sviluppo spirituale. Di questo ho già parlato e ne ho anche parlato con te Marco in incontri, webinar e interviste precedenti, di cosa considero sviluppo personale, dove finisce lo sviluppo personale e dove comincia lo sviluppo spirituale, ne ho anche parlato nel mio podcast, è un salto molto importante che presto o tardi tutti quanti dobbiamo fare, se non lo facciamo in questa vita lo faremo in una prossima e comunque è importante, c'è una continuità fra il primo e il secondo. Nella dimensione dello sviluppo spirituale in questa vita ho avuto 3 maestri principali, sono tutti e 3 nel buddismo tibetano, non è che il buddismo tibetano è migliore degli altri, ma il mio destino o come direbbero gli appassionati di religione orientale, il mio karma mi ha fatto incontrare il buddismo tibetano, la verità di questo insegnamento ha risuonato in me, evidentemente era fine, era incline al mio modo di essere e di sentire, così ho iniziato con questo sentiero e così ho continuato per ormai da oltre 25 anni. Ti dicevo che ho avuto 3 maestri nel buddismo tibetano, nel buddismo tibetano ci sono 4 scuole principali e io ho seguito 3 diverse maestre di 3 diverse scuole, quindi ho studiato con 3 scuole, 3 delle 4 scuole del buddismo tibetano. I primi due maestri li ho seguiti per 7 anni ciascuno, per un totale di 14, con il terzo maestro che è anche il mio attuale sono insieme da 14 anni, anche questo in due fasi di 7 anni ciascuno, in quanto per i primi 7 anni ho potuto godere della sua vicinanza fisica piuttosto costante, invece nei secondi 7 anni, gli ultimi 7 anni, ci siamo potuti sentire soltanto a distanza per via di importanti e gravi ostacoli che sta attraversando nel tibet occupato sostanzialmente dal governo cinese che non gli consentono più di uscire né a lui di uscire per venire in occidente a insegnare e né a noi di andare da lui in oriente a imparare. Come che sia, 4 periodi di 7 anni, in 4 periodi di 7 anni si impara tantissimo, io questa strada non l'ho fatta tanto per farla teoricamente o leggendo libri, l'ho fatta praticando, l'ho fatta con enormi sacrifici, l'ho fatta con enormi privazioni, dedicando molte ore al giorno, tutti i giorni alla pratica e questo significa che mentre i miei coetanei si costituivano un futuro, un avvenire, una carriera, mettevano da parte soldi per il loro futuro, crescevano figli e così via, la mia famiglia invece, e bada bene, già avevo 3 figli, la mia famiglia cresceva in maniera molto 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 stentata, estremamente stentata economicamente, perché tutte le mie energie e la mia passione era dedicato a seguire il sentiero spirituale. E quindi dal primo di questi maestri ho ricevuto soprattutto quello che io oggi chiamo una filosofia pratica di vita e di realizzazione, una filosofia pratica di vita e di realizzazione. Noi diciamo che prima della realizzazione deve venire la comprensione corretta, una comprensione corretta della realtà, cioè una comprensione corretta delle cause della sofferenza e delle cause della felicità. Chiamiamola teoria, ma non è realtà teoria, è la conoscenza della nostra mente. Noi diciamo che questo tipo di comprensione o conoscenza tra virgolette intellettuale, prima della pratica, dal primo dei miei maestri ho ricevuto questo, che chiamiamo Lam Rim in tibetano e chiamiamo Sentiero Graduale in italiano, ed è ancora oggi uno dei pilastri fondamentali dell'insegnamento che io trasmetto ai miei studenti durante i miei incontri dal vivo e così come li seguo a distanza. Dal secondo di questi tre maestri ho ricevuto soprattutto il potere della pratica, 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 sedersi e praticare la meditazione per molte molte ore al giorno, senza più approfondire la parte intellettuale, perché quella ormai l'avevo esaurita nei sette anni precedenti. Quindi la pratica è l'intensità della presenza nella vita quotidiana, perché se uno scopre la presenza nella vita quotidiana, la pratica non dura più soltanto il numero di ore che uno pratica, ma dura 24 ore al giorno. Dal terzo maestro spirituale, che è quello mio attuale, ho ricevuto, come dire, la trasmissione diretta, la chiamiamo nella nostra tradizione, la trasmissione diretta dell'esperienza risvegliata, perché tante tradizioni parlano di esperienza diretta, parlano di risveglio, di ignosi, di stato naturale della mente, di consapevolezza primordiale, di quella che è la nostra vera natura, la vera natura della mente al di là del pensiero discorsivo, illuminazione spirituale e così via con tanti altri termini di questo tipo. Ora, nella tradizione del mio maestro esiste uno specifico rituale di trasmissione da maestro a studente di questa esperienza diretta, di questa esperienza risvegliata, di questa illuminazione spirituale. Esiste uno specifico rituale di trasmissione tale per cui il maestro te la conferisce, lo studente lo riconosce, il maestro conferma che lo studente l'ha riconosciuto e da quel momento in poi è tutto completamente diverso per lo studente perché la sua pratica accade nell'ambito di questa realizzazione che lui o lei ha già riconosciuto. Questo ho ricevuto dal mio maestro, questo ho ricevuto dai miei maestri, questo io ho realizzato, questo è quello che io trasmetto a mia volta oggi ai miei studenti, a quelli che entrano in un rapporto personale con me, che seguono le mie istruzioni spirituali, certi esercizi che si fanno per un certo periodo di tempo e questo poi faccio durante due incontri annuali nelle Marche. Molto importante se questo è l'ambito in cui trasmetto tutti i miei insegnamenti spirituali, li trasmetto durante queste due uniche occasioni annuali che sono, le trovi riferite su italocido.it slash incontro. Sono due all'anno, una in primavera e una in autunno. Ma torniamo a noi, torniamo a noi. Una delle scoperte principali durante il sentiero spirituale è quello, ma anche non solo il sentiero spirituale, ma anche nel sentiero della crescita personale. Per me un tema ricorrente è stato quello di, come posso dire, il potere della solitudine. Cioè durante i miei viaggi l'ho scoperto casualmente, ho raccontato che partivo ovviamente da solo, zaino in spalla, e notavo che durante questi viaggi solitari non solo io ricevevo i benefici e i regali di quella specifica terapia di crescita personale che stavo andando a fare, ma ricevevo come una pioggia, una valanga di intuizioni derivanti dal semplice fatto che stavo da solo per molti giorni, in alcuni casi per molte settimane e in alcuni casi per molti mesi, perché ho fatto anche questo. Quindi più si approfondiva questa solitudine, più ricevevo trasmissioni, benedizioni, comprensioni, intuizioni sempre più profonde, oltre che da ciò che stavo facendo, dal semplice fatto di essere in solitudine. Poi questo che era stata una scoperta casuale è diventata invece totalmente formalizzata durante il mio apprendistato spirituale, perché nel campo spirituale si dice, si parla proprio di questo potere della solitudine ed è in tutte le tradizioni spirituali del mondo, a ogni latitudine e in ogni epoca storica c'è questa idea che la solitudine, staccare il contatto con il resto del mondo, soprattutto con le routine ordinarie quotidiane, da solo favorisce questo approfondimento dell'intuizione, della comprensione, della saggezza e di quella natura risvegliata che già è dentro di noi. Il punto non è di andare a cercare all'esterno e di aggiungere qualcosa al nostro essere che non abbiamo, il punto è scoprire quello che già abbiamo e quello che già siamo fin da un tempo senza inizio. Quindi in tutte le tradizioni spirituali, nella mia sicuramente tantissimo, è enfatizzato il potere della solitudine, come ogni praticante dovrebbe ricercarsi di tanto in tanto delle situazioni di mettersi in solitudine a praticare, perché da questo provengono infiniti regali e intuizioni spirituali. Importantissimo, qui ritorno e preciso quello che avevo accennato poco fa verso l'inizio, se tu pensi che normalmente vivi da solo, perché vivi in casa da solo e quindi normalmente tu pratichi la solitudine e quindi non hai bisogno, perché già vivi in solitudine e quindi non hai bisogno di ascoltare quello che sto dicendo, lascia che ti dica che ti sbagli di grosso, perché il concetto di ritiro non è solo il concetto di solitudine, ma ascolta attentamente, è il concetto di andare in solitudine in un luogo sconosciuto. Questo è estremamente importante, fa tutta la differenza del mondo. In un luogo sconosciuto vuol dire un luogo dove la tua mente non si può aggrappare, non si può pigliare alle abitudini, ai rituali, al conosciuto. Mi sono annoiato, apro il frigorifero, vado a vedere cosa ci sta dentro, faccio uno snack, faccio una merenda, esco fuori, prendo il sole, faccio una passeggiata, guardo la televisione, ascolto la radio, navigo sul computer, vado a navigare sui social media e così via. Questi sono i normali punti di riferimento alla nostra vita quotidiana che ci distolgono continuamente da noi stessi e ci portano invece costantemente verso l'esterno. Quindi è importantissimo il ritiro individuale, è davvero il ritiro individuale se è non solo un ritiro individuale ma è fatto in un luogo sconosciuto, adesso ci tornerò su questo, è un luogo di cui non dobbiamo preoccuparci, è un luogo di cui non siamo responsabili. Perché è questo che veramente ci riporta continuamente alla nostra mente, cioè a noi stessi, al nostro cuore forse dovrei dire. Secondo delle tradizioni spirituali alcuni intendono mente in senso negativo, cioè l'intelletto. Nella mia tradizione mente non ha questa connotazione negativa, ma comunque questo è un altro discorso. Insomma, lungo questo discorso del potere della solitudine, negli anni del mio apprendistato spirituale di pratica in solitudine ne avevo accumulata tanta, però non immaginavo che a un certo punto del mio apprendistato avrei ricevuto una sfida particolarmente dura. È stato il mio maestro, il terzo, quello attuale, a dirmi che per fare un salto a livello successivo dal mio percorso spirituale avrei dovuto fare un mese di completa solitudine, un mese intero, idealmente in un luogo remoto, a contatto con la natura. E questa fu la disposizione, questa fu l'indicazione che ho avuto dal mio maestro e nella nostra tradizione, se tu sei a livello di hobby e passatempo, puoi fare quello che ti pare, ma se tu prendi seriamente il rapporto fra insegnante e studente, quando il tuo insegnante ti dice una cosa, tu la fai. E questa è la tradizione. Anche perché è possibile che il tuo insegnante abbia visto qualcosa che tu non hai ancora visto. Di conseguenza l'idea era questa, andare in un luogo remoto a contatto con la natura. Avevo un preciso elenco di istruzioni, noi le chiamiamo istruzioni di realizzazione, che fanno parte di questa tradizione, che poi è la tradizione Dzogchen per il buddismo tibetano. Così decisi di affrontare questa esperienza di un mese di ritiro nel modo più diretto, senza affrontoli e rigoroso possibile, cioè scelsi un luogo di montagna, un bosco di querce bellissimo, dove ho vissuto per un mese sostanzialmente con la mia tenda. Usavo una buca scavata nel terreno come gabinetto e così via, senza mai vedere nessuno e senza mai essere visto da nessuno, è questo che dice la tradizione. Ovviamente senza mai parlare con nessuno, ti assicuro che riuscire a completare un mese in queste condizioni non è facile, dopo qualche giorno inizi a parlare da solo d'altavoce e comincia a dare strani sintomi di squilibrio. Una delle esperienze più incredibili di un solitudine di un'esperienza di questo tipo è che all'inizio, i primissimi giorni, hai un'accelerazione molto forte dei tuoi pensieri, questi pensieri diventano sempre più veloci e irrequieti. Poi a un certo punto, quasi per incanto, tutti i tuoi pensieri si bloccano, si pacificano da soli e così entri senza sforzo in uno stato di silenzio, di pace, di gioia, di chiarezza che non può essere descritto. I miracoli spirituali, le realizzazioni spirituali che sono accadute a me durante questo ritiro non posso raccontarle, non avrebbe senso, non è neanche permesso nella mia tradizione parlare delle proprie realizzazioni spirituali. Comunque è stato uno dei più importanti punti di svolta nella mia vita, c'è un prima e un dopo nella mia vita rispetto a questa esperienza di un ritiro solitario. Volevo anche aggiungere che quello che dicevo che nei primissimi giorni c'è un'accelerazione esponenziale dei pensieri che poi si placano, questo non accade nel ritiro rigeneratore di 48 ore che sto per proporti, anche perché in queste 48 ore hai 12 specifici esercizi da fare, quindi non è un ritiro di silenzio, di quiete, di meditazione e così via come era quello che facevo io, ma un esercizio dove ci si siede al tavolino carta e penna ci sono 12 esercizi di autoriflessione molto intensi da fare, di conseguenza questo aggira completamente questo problema, fra virgolette, di cui ti ho parlato, perché si tratta di un'esperienza in un certo senso diversa. Comunque torniamo a noi, l'estate successivo ho fatto un altro ritiro, stavolta di 15 giorni e questo è il ritiro del 2004, cioè mentre parlo 10 anni fa, il decennale è quello durante il quale ho avuto un'altra esperienza spirituale molto molto profonda e ho anche avuto una visione di chiarezza, ho anche avuto un sogno di chiarezza, dopo il quale subito dopo al mattino appena svegliato, scrivendo di getto senza mai fermarmi, ho composto la meditazione guidata che non ho mai corretto in questi 10 anni, così come sgorgata immediatamente dalla mia visione, dal mio sogno al risveglio quella mattina, durante quel ritiro, è che oggi questa meditazione guidata è il cemento intorno a cui si è costruita negli anni tutta la comunità dei miei amici spirituali, è una pratica che ha cambiato la vita di quasi 2000 miei amici studenti e praticanti ed è una pratica, questa della meditazione guidata, che contiene come se fosse un ologramma, contiene dentro di sé tutte le fasi del sentiero della realizzazione spirituale. Poi, proseguendo negli anni ho continuato a lavorare con lo strumento della solitudine, però tornando al nostro ritiro rigeneratore, l'idea che ho avuto è quella di mettere insieme il meglio di tre approcci, diciamo così. Numero uno, la solitudine, ho già parlato di questo, la solitudine da sola, anche per fare nient'altro, ha un potere di trasformazione immenso. La seconda cosa, il secondo elemento, ho messo insieme una specifica serie di 12 esercizi di autoriflessione, perché andare in solitudine senza fare niente è totalmente privo di, è totalmente privo di qualsiasi beneficio, di qualsiasi utilità e tornerà più confuso di quando sei partito. Quindi anche nella nostra tradizione spirituale, tradizionalmente si dice ogni ritiro deve essere accompagnato da specifiche istruzioni delle pratiche che tu farai durante il ritiro, altrimenti è inutile. Così io ho aggiornato, come dire, reso moderna questo approccio, questa indicazione, creando una specifica serie di 12 esercizi intensi, molto concentrati di autoriflessione, che ti consentono di fare un punto della situazione completa di questo momento della tua vita, di dove sei arrivato e di dove vuoi andare da ora in poi. E il terzo elemento, molto molto importante, è la meditazione guidata, che per appunto in soli 20 minuti, perché bastano 20 minuti a farla, contiene praticamente l'essenza di tutto un percorso spirituale, soprattutto quando la capisci, capisci le sue fasi e la mia meditazione guidata è accompagnata ad una spiegazione che ti aiuta a comprendere con chiarezza e con semplicità le fasi di quello che stai facendo. Così ho creato le istruzioni complete per questa pratica, che ho chiamato ritiro il rigeneratore e ho iniziato a consigliarle ai miei studenti. Come posso dire, il bene, i miracoli che questa pratica ha fatto anche per i miei studenti, sono tutti testimoniati e documentati, abbiamo un'intera community online, una community che reside su Google+, un po' come se fosse un gruppo Facebook, però in realtà è su Google+, dove sono raccolte tutti i racconti, le testimonianze e così via di tutti quelli che hanno completato il reset, man mano il reset, è così che lo chiamiamo affettuosamente il ritiro rigeneratore, il reset, perché è una specie di resettaggio della propria vita, ti parlerò poi dopo in seguito di questa community e di come far parte di questa community. Quindi adesso facciamo un passo indietro, perché questa pratica del ritiro rigeneratore funziona? Funziona anzitutto perché molti approcci alla crescita personale e spirituale fanno appello a tecniche esterne e magari c'è un iniziatore, un fondatore di quella tecnica che ha avuto personalmente un beneficio da un certo metodo, una certa tecnica, poi la ripropone tale a quale agli altri, ai suoi futuri studenti e invece quello che funziona per lui si scopre che non funziona per gli altri, perché siamo tutti diversi. Diciamo qui lo spostamento di focus è da tecniche che provengono dall'esterno invece a entrare in contatto con la nostra propria saggezza innata attraverso questo strumento impagabile che è la solitudine. Un altro concetto importante è che, come si dice, anche questo è un concetto antichissimo, anche nelle medicine naturali basta pensare all'enopatia, il veleno sta nella dose, ma quella sostanza velenosa se tu la prendi nella giusta dose si trasforma in medicina. Quindi il veleno che tutti quanti rifuggono in questo caso è la solitudine, il veleno di cui tutti rifuggono e di cui nessuno di noi vuol sentire parlare. Uno pensa che la maledizione principale della vita e dell'essere umano sia essere condannati alla solitudine. Questo è il veleno a cui tutti rifugiamo. Se invece facciamo amicizia, ci accostiamo con una mente nuova, con uno spirito nuovo a questo stesso veleno che è la solitudine, come per magia si trasforma in una medicina, cioè si trasforma in quel grande segreto che è sempre stato sotto gli occhi di tutti, cioè quando la mente smette di appoggiarsi, di aggrapparsi alle cose esterne, alle persone esterne, alle circostanze esterne, ai rituali e alle abitudini esterne, è quando la mente comincia così a scoprire la ricchezza che ha dentro di sé. Allora tutti i regali arrivano spontaneamente quasi senza sforzo. Un ritiro in solitudine anche breve, come questo di 48 dottore, riequilibra le energie, magari uno è parte agitato, parte stressato, parte depersonalizzato da tutti gli impegni che non riuscire mai a prendersi tempo per sé stesso, magari uno ha problemi di equilibrio nelle proprie emozioni, magari uno soffre costantemente di rabbia nella vita quotidiana o altre emozioni negative, distruttive e così via. Bene, un ritiro di questo tipo già ti riequilibra le energie, l'energie del corpo fisico proprio e contemporaneamente le energie delle emozioni, le energie emotive, rafforza la fiducia in sé, questo è uno dei principali risultati regali che tutti quanti riferiscono, è come aver, essere partiti per un'avventura ad essere tornati vittoriosi. Certo è una piccola avventura, ma in realtà è una grande avventura, può essere una grande avventura liberarsi dei guinzagli, delle catene, dei legami che ci incatenano agli impegni, gli obblighi familiari, gli obblighi lavorativi per dire adesso mi prendo 48 ore tutte per me. E quella cosa ovvia che è sotto gli occhi di tutti, che chiunque potrebbe fare, è che invece uno in tutta una vita intera non lo fa mai e quindi riuscire a farlo sembra una piccola avventura, ma in realtà è una grandissima avventura, è l'avventura di una vita intera e averla portata a compimento rinforza tantissimo la nostra immagine di noi stessi, la nostra autostima e la nostra fiducia in noi stessi. Poi questo ritiro rigeneratore, soprattutto come è stato progettato con questa sequenza di 12 esercizi, ci aiuta a chiarificare quelle che sono le priorità più importanti in questo momento della nostra vita. Guardo un attivino in sala conferenze se tutto procede per il meglio. Ok. Non sono in sala conferenze, finisco prima la presentazione poi leggo tutte le domande, abbiamo tutto il tempo per le domande dopo, quindi vedo giusto se c'è qualche inconveniente tecnico, mi sembra che non ce ne siano. Quindi dicevo un altro regalo importante è quello che chiarifica le nostre priorità importanti, quello che è veramente importante per noi in quel momento della nostra vita per fare questo salto a livello successivo del nostro sviluppo personale e spirituale, perché solitamente o spesso le nostre priorità non sono determinate da noi stessi, ma sono determinate e direzionate da qualcun altro, nella maggior parte dei casi dalle aspettative degli altri nel mondo familiare, nel mondo lavorativo e così via. Così chiariamo cosa è veramente prioritario per noi e che vuol dire anche creare un nuovo piano, un nuovo progetto di vita, a cosa allocare il nostro tempo, perché il nostro tempo non è infinito, non è illimitato e ciò che facciamo nel nostro tempo, nelle 24 ore che abbiamo a disposizione nella nostra giornata, che in realtà ne abbiamo a disposizione molte meno se togliamo quelle che dormiamo, quelle che mangiamo e così via, quello che facciamo nelle ore a nostra disposizione, è quello che poi finiamo per fare nella nostra vita, quindi la capacità di gestire il tempo, che è anche la capacità di gestire la nostra vita e quindi torniamo con nuove idee, ci può aiutare a riappacificarci con se stessi, questo succede molto spesso grazie a questi esercizi di autoriflessione, si vedono parti di noi stessi incompiute, riaffiorano problematiche lasciate un po' lì a metà e finalmente si decide di guardare una situazione in faccia, di fare i conti con questa situazione risolta e di decidere in che modo risolverla, di dargli una direzione salutare, una direzione positiva per concludere quello che è rimasto in sospeso con noi stessi e con gli altri. Questo spesso significa fare amicizia con parte di noi stessi che magari non accettavamo e quando riusciamo ad accettare noi stessi, essere più gentili, più pazienti anche con noi stessi, diventiamo automaticamente capaci anche di essere più gentili, più accettanti e capaci di amare anche gli altri e quindi questa capacità di estenderci perché i benefici del sentiero spirituale non sono soltanto essere felici, io personalmente, io basta ritagliarsi una propria isola felice personale di beatitudine privata, non è questo il concetto della pratica né di crescita personale né di crescita spirituale ma al contrario il concetto è quello di espandere, estendere, ispirare, benedire tanti altri esseri viventi grazie al nostro percorso di crescita personale e spirituale ed è lì che si vede la differenza nel nostro percorso quando diventiamo capaci di toccare positivamente la vita di altre persone. Così, ci sono tantissimi regali di questo ritiro rigeneratore, è capace di farci scoprire valori semplici, valori semplici ma importantissimi come la gratitudine, quanto io ho capito il senso di gratitudine quando ero in ritiro in un luogo solitario e invece quanto è difficile capirlo quando godi di tutte le comodità, quanto è più facile capire la gratitudine quando sei in solitudine e capisci che la tua vita è già una buona vita, che già godi di circostanze favorevoli di cui molte altre persone in realtà non godono, c'è la capacità di gioire delle cose belle che già abbiamo e poi la base per riuscire a essere felici delle cose che realizzeremo in futuro, perché se non siamo felici di ciò che abbiamo oggi non saremo felici neanche di ciò che realizzeremo domani, la gioia è sempre e soltanto nel momento presente e così facciamo amicizia con questi fatti, sviluppiamo questi fattori importantissimi del nostro cuore, della nostra mente. Così come c'è chi utilizza il ritiro il rigeneratore per concentrarsi su uno specifico progetto, uno specifico progetto di vita, una specifica attività che può essere lavorativo ma può anche non essere un progetto lavorativo o può esserlo, così ci dà una chiarezza, ci dà l'energia di riprendere in mano un progetto che può essere nuovo ma può essere anche molto antico e che abbiamo lasciato a metà, ci dà chiarezza sui passi per realizzarlo, ci dà chiarezza su decisioni che abbiamo lasciato in sospeso da tanto tempo, ci dà chiarezza su come trarre il meglio di una situazione difficile per esempio che potremmo stare attraversando in questo momento della nostra vita e ci può dare chiarezza su come utilizzare al meglio le circostanze favorevoli perché anche quelle vanno utilizzate nel modo migliore, dobbiamo essere capaci di trasformare le circostanze difficili in modo tale che si trasformino in nostre alleate e utilizzare le circostanze favorevoli in mania tale che non diano luogo a pigrizia e a sedersi sugli allori e così via ma anche le circostanze favorevoli devono essere trasformate in percorsi di crescita, questo che ho appena detto, trasformare le circostanze sfavorevoli e quelle favorevoli nel sentiero della crescita personale e spirituale è da solo un argomento a cui dedico 4 giorni interi, è uno di questi cicli di incontri che sto facendo nelle Marche due volte all'anno, quindi è un argomento che assolutamente ti prego di approfondire, è estremamente importante, cioè la trasformazione del pensiero e la trasformazione delle circostanze ed è il tema di uno delle prossime incontri che terrò nelle Marche. Ora, torniamo al nostro ritiro rigeneratore, in cosa consiste? Esattamente si coltiva la solitudine scegliendo un luogo che disti almeno 100 km dalla propria casa, dal luogo dove si abita, ogni gioco ha le sue regole, anche questo gioco ha le sue regole. Le regole hanno eccezioni? Sì, possono avere eccezioni in casi eccezionali, però diciamo che la regola è questa, sceglierai un luogo che disti almeno 100 km dal posto in cui vivi, deve essere un luogo in cui non sei mai stato, deve essere un luogo di cui non devi preoccuparti, per esempio sì, ok, potrebbe essere un luogo che ti presta un parente, potrebbe essere un luogo, una casa di villeggiatura disabitata che ti presta un amico, ma se poi devi preoccuparti di questa casa, per disabitarti gliela devi pure ripulire, abbellire, magari comprare qualche oggettino per far vedere che sei riconoscente e ti devi preoccupare di costantemente di rimettere in ordine e così via, non è una situazione ideale. L'ideale è essere un luogo in cui non sei mai stato e di cui non ti devi neanche preoccupare, questa è la situazione ideale. Ecco perché dico che anche, visto che viviamo nel ventunesimo secolo, anche un albergo, una pensione, una stanza che faccia sul mare, perché la vista è bellissima, è un aspetto meraviglioso del ritiro, poter avere una vista capace di spaziare in lontananza, un albergo può andare benissimo, un albergo può andare benissimo per un ritiro solitario, ci sono delle regole, poi queste sono approfondite sulle istruzioni che fra pochissimo ti dirò dove e come scaricare, scaricare molto facilmente e totalmente gratuitamente, ovviamente. Così ci sono altre regole, disconnetterti da internet, disconnetterti dal computer, disconnetterti dal telefonino, lo so sembra strano, oggi sembra assurdo com'è, non posso vedere social media o non posso ricevere telefonate da mia moglie, mio marito, mio cugino, mia madre, mio padre eccetera eccetera, lascio che ti dica, a parte quando ho fatto molti di miei ritiri, i telefonini non esistevano neanche, ma quando ho fatto molti di miei ritiri, o tutti i miei ritiri, il senso, il significato spirituale di un ritiro è che quando tu stai facendo un ritiro, le persone a te care non sanno se tu sei vivo o tu sei morto, e viceversa, questa è una parte importante psicologicamente parlando del ritiro, quindi il consiglio che do, o meglio la regola che do in questo, per fare questo ritiro rigeneratore è avvisa i familiari, avvisa le persone care, io voglio che per 48 ore tu faccia questa pratica per bene e tu sia completamente irraggiungibile al telefono, al telefonino, al computer, su internet e così via, oggi ci sembra assurdo? 15 anni fa questo è il modo di vivere normale, la gente non era sempre raggiungibile con un telefonino in tasca, era il modo di vivere normale ed è stato il modo di vivere normale per millenni su questo pianeta, quindi ci sono altre regole, anche se vai in un albergo, va bene, puoi andare in albergo, però ridurrai al minimo indispensabile le interazioni con altri esseri umani, il testo radice e anche il commento orale includono tutte le istruzioni, regole, consigli, trucchi e così via su come fare al meglio questa esperienza con tutti gli stratagemmi del caso. Durante questi 48 ore non ti annoierai, non è che non saprai cosa fare, al contrario ti sarà dato un elenco completo di 12 esercizi, questi 12 esercizi sono esercizi di autoriflessione che ti aiuteranno a fare un completo punto della situazione sulla tua vita. In un esercizio cercherai di ricordare chi sei, cosa sei venuto a fare in questo mondo, quante volte ho raccontato nel mio podcast, nel mio blog che a volte quando siamo piccoli ci ricordiamo chi siamo, quando siamo molto piccoli chi siamo, cosa siamo venuti a fare in questo mondo, qual è la nostra missione, la nostra visione, quello che noi siamo venuti a realizzare, ma poi crescendo, seguendo i percorsi di vita obbligati, cominciando dalla scuola che distrugge la nostra creatività personale e la nostra individualità, noi ci dimentichiamo chi siamo, perché siamo costretti dalla mattina alla sera a fare cose che altri ci dicono di fare. Così con questi esercizi cerchiamo di ricordare chi siamo, un altro esercizio creeremo il nostro mantra personale, tu creerai il tuo mantra personale, è il nome che ho dato a una specie di, possiamo chiamarla una frase di potere, che è una specie di faro che illumina la tua strada, è una frase che puoi ricordare, ripetere a te stesso a voce alta, ripetere a te stesso mentalmente, nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui hai bisogno di riorientarti, nei momenti di confusione, nei momenti in cui hai bisogno di dare una direzione bella e salutare alla tua vita. In un altro esercizio deciderai come vivere e deciderai perfino, deciderai perfino quanto vivere, deciderai perfino quanto a lungo vivere, perché ci sono delle cose che si possono decidere nel modo in cui noi vediamo la nostra vecchiaia, vediamo la nostra morte, vediamo il nostro futuro e c'è un esercizio abbastanza profondo che ti raccomanderò di fare durante questo ritiro, non ti voglio sciupare la sorpresa. In un altro esercizio scriverai il tuo testamento spirituale in cui i tuoi posteri immaginari, nipoti e pronipoti o posteri potranno scoprire cosa è stato importante per te quando eri in vita e questo sarà una testimonianza importante non solo per le altre persone future ammesso in un concesso che mai lo vedranno, ma sarà molto importante per te stesso capire cosa è per te importante. In un altro esercizio creerai un punto di riferimento stabile, come dice quella canzone di Battiato, un centro di gravità permanente, creerai un punto di riferimento stabile da cui potrai prendere tutte le tue decisioni future. In un altro esercizio costruirai un tuo modello di ruolo, perché tutti noi seguiamo modelli di ruolo che spesso sono persone fisiche in carne ed ossa con cui noi siamo identificati e queste persone, l'esempio di queste persone ispira la nostra condotta nella vita quotidiana, però queste persone non sono un buon esempio per noi e noi ne siamo consapevoli di questo e ne siamo consapevoli che stiamo scimmiottando inconsapevolmente l'esempio di un'altra persona, un modello di ruolo che per noi non è un buon modello, anzi spesso è un modello distruttivo. Anche qui c'è un esercizio specifico su questo. In un altro esercizio esaminerai e espanderai le opportunità che hai in questo momento della tua vita, vedrai le diverse strade che si diramano, diversi possibili o potenziali futuri che si snocciolano di fronte a te a partire da questo preciso momento e prenderai delle decisioni e deciderai quali di queste opportunità vorrai cogliere prevalentemente. In un altro esercizio recluterai degli alleati, è molto importante quando torni a casa avrai reclutato alleati, cioè o persone care, persone vicine che possono aiutarti a realizzare questa nuova visione, oppure persone che tu hai il dovere di informare nel caso che decidi di fare cambiamenti importanti nella tua vita, nel tuo tempo e così via. Insomma questo è soltanto un breve antipasto di questi 12 esercizi che si fanno durante il ritiro rigeneratore, è un'esperienza potente, è un'esperienza estremamente concentrata e al tempo stesso, vada bene, dura soltanto 48 ore, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio. Chiunque può farla, non importa chi sei, non importa che impegni familiari hai, non importa che scuse ti racconti, non importa che lavoro fai, chiunque può fare un ritiro individuale di 48 ore dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, se il tuo lavoro te lo consente, o altrimenti in qualsiasi altro giorno, perché per quanto mi riguarda qualsiasi altro giorno va perfettamente bene. È un'esperienza questo ritiro che funziona molto bene con chiunque, con i tipi più diversi di persone, perché è un esercizio in cui il contenuto ce lo metti tu, quindi non dipende dalla tipologia di persone, tale per cui ad alcuni tipi di persone adatto e per altri invece no. È un esercizio chiaramente, semplicemente dettagliato, le istruzioni sono spiegate molto bene sia per scritto che per audio, è un approccio unico nel suo genere, è il frutto dei miei 25 anni di ricerca personale e spirituale, quindi è un approccio completamente unico, non credo che cercando in giro troverai nulla di simile, ed è un approccio che ti guida passo dopo passo nell'estrarre il meglio da quello che è questo momento della tua vita. Ecco perché molti, subito una delle prime cose che scrivo dopo averlo fatto, mi piacerebbe rifarlo fra un anno, mi piacerebbe rifarlo fra due anni, perché veramente dà il senso di quello che, quello ologramma che è questo momento della tua vita, tu impari a trarre il meglio da quello che hai. Ti leggo velocemente senza annoiarti alcune testimonianze, queste sono ciò che scrivono gli amici praticanti che fanno questo ritiro di generatore nella nostra community su google, alcuni hanno scritto, esempio ti leggo Stefano, oggi sento di non aver più paura della solitudine e posso apprezzare maggiormente la giusta compagnia sapendo che non la devo cercare per paura ma per piacere. Gli esercizi sono utilissimi e molto utili e prendersi due giorni interi per riflettere sulla mia vita credo sarà una cosa che farò periodicamente. Valentina, ho riflettuto su come questo viaggio non sarebbe stato possibile nella condizione ormai ordinaria di interruzione continua del flusso che scava nella nostra consapevolezza. Soltanto grazie a uno stato innaturale, fra virgolette, di isolamento ho potuto focalizzarmi in me con tutte le mie risorse. In poche ore sono riuscita a comprendere meccanismi di me che in anni erano semplicemente usciti fuori dal mio campo visivo pur avendoli sotto il naso. Semplicemente perché non mi ero dedicata il tempo e lo spazio per vederli davvero. Ecco il ritiro di generatore ti offre l'opportunità di vedere solo te, di rimanere in te anche se esci dalla tua stanza perché alla potenza delle domande che Italo ha composto per noi è impossibile sottrarsi. Rita, mi metto subito a fare gli esercizi e come per magia le risposte, le intuizioni e le risorse si snocciolano una dopo l'altra come grani di un misterioso rosario. Io stessa guardo con un senso di meraviglia questo ribollire costante, colorato e scintillante. Gli esercizi sono densi e intensi, ti obbligano a guardarti dentro. Ho trovato un potentissimo mantra personale, ho scritto il mio futuro. Che magia è questa? È tutto dentro di me. Basta solo imparare a lasciar scaturire ma il potere è interiore e innato. Il valore di questi esercizi sta nel permettere a questo di manifestarsi. Valentino, ho avuto l'opportunità di ridisegnare varie aree della mia esistenza con scelte e decisioni consapevoli segnando veri e propri punto a capo. Gian Maria, il reset mi ha permesso di lavorare su tanti aspetti, familiare, altruistico, lavorativo, hobby, passioni. Ho individuato le ancore della dipendenza che ho sostenuto a lungo, ho estratto le frasi di potere e ho scelto liberamente cosa adottare e cosa abbandonare. Il messaggio altruistico che emerge è molto potente e non si può fare finta di non percepirlo. Salvatore, la meraviglia del reset sta nella semplicità. Ti dà accesso alla tua saggezza e alla verità che difficilmente sarebbero accessibili con tanta chiarezza nella ordinaria quotidianità. Tutto questo lo ottieni dedicando uno spazio e del tempo alla persona a te più cara. Marco Antonio, cosa ha fatto di positivo per me il reset? Beh, prendendo in prestito una famosa frase di Steve Jobs, ha unito i puntini, ovvero mi ha aiutato a ridefinire meglio chi sono, in cosa credo, quali scelte fare per il futuro di libertà e amore al quale tendo e con quali persone. Gabriel, i 12 esercizi del ritiro mi hanno guidato a risaminare a fondo la mia vita e il futuro che stavo creando e scrivere una nuova storia personale che mi dona forza, chiarezza e fiducia. Mi hanno aiutato a capire cos'è davvero importante per me e a cosa devo dedicarmi una volta tornato a casa per avere più libertà e felicità. Mi hanno guidato a formulare delle frasi di potere e dei rituali da ripetere ogni giorno per dare sempre il meglio di me ed essere chi sono davvero anche nelle situazioni difficili. Così, morale della favola, questa pratica è qualcosa in cui credo profondamente, di cui sono totalmente entusiasta e appassionato, è una pratica che sta migliorando la vita di tantissime persone e continuerò a farlo, per me questa è una specie di dono che voglio diffondere il più possibile a tantissime persone. Così, anche se tutti quelli che mi conoscono sanno benissimo che io mi guadagno da vivere per me e per la mia famiglia vendendo prodotti e servizi online, molti di questi prodotti sono prodotti di conoscenza, prodotti informativi e così via, perché non ho altri lavori all'infuori di questo, ebbene questo ritiro e rigeneratore, questo reset, io voglio che sia esattamente quello che ho appena detto, cioè un dono che voglio diffondere il più possibile a tantissime persone. È nato come un dono e voglio che lo rimanga. In altre parole, adesso ti darò la possibilità di scaricare le istruzioni complete per il ritiro e il rigeneratore gratis, però ha una condizione, qualcosa in cambio me la devi. Ti chiedo di non scaricare queste istruzioni e poi lasciarle lì in qualche cassetto a prendere polvere o né in qualche dimenticatoio. Ti chiedo di usarle, di mettere in calendario, di mettere in agenda il tuo reset al più presto, nel giro dei prossimi due mesi al massimo, così che tu poi possa condividere con gli altri le tue esperienze e i tuoi risultati, perché non c'è niente di più bello che ispirare gli altri attraverso le cose positive che facciamo. Il come è molto facile, all'interno, come condividere con gli altri intendo dire è molto facile, perché all'interno delle istruzioni stesse del ritiro e rigeneratore troverai anche come accedere a questa community online di cui ho accennato più volte, la community di cui fanno parte tutti quelli che hanno completato il ritiro e rigeneratore, ed è anche la community dei miei amici e studenti di realizzazione spirituale, c'è già un qualche centinaio di iscritti, sono quelli che partecipano ai miei incontri dal vivo. E quindi ti chiedo di condividere con loro le esperienze e i risultati del tuo ritiro e rigeneratore, in modo da ispirare con il tuo esempio quelli che poi verranno dopo di te. Quindi tutto qui, una condivisione sincera delle tue esperienze, sia belle che brutte, con il reset. La possibilità e il dono che ti sto offrendo sono certo che può avere un impatto di trasformazione forte nella tua vita, perciò se questa mia presentazione ha ispirato te, ti invito a scaricare l'istruzione del ritiro e rigeneratore, cosa che puoi farlo molto comodamente a questo indirizzo che sto per darti, italocillo.it slash reset, italocillo.it slash reset. In questa pagina troverai tutto quello che ti occorre, il riepilogo della sfida, in solitudine per 48 ore in un luogo sconosciuto, ti darò tutte le possibili suggerimenti e istruzioni per organizzarti al meglio, ci sono tutte le istruzioni, i 12 esercizi da svolgere durante il tuo ritiro solitario, la guida completa alla pratica del ritiro e rigeneratore in formato pdf, il mio commento audio mp3, con approfondimenti e insegnamenti sul testo base, in più il diario della gratitudine, dicevo prima, in formato pdf, che è un esercizio molto coinvolgente, sarà il compito a casa che ti accompagnerà una volta ritornato dopo il tuo ritiro. Ciascuno di questi 12 esercizi da solo può fare una profonda differenza nella vita di una persona, per esempio quando comporrai il tuo mantra personale, una speciale frase di potere destinata a accompagnarti in ogni momento della tua vita, quello può essere un punto di svolta solo quello, o quando scriverai il tuo testamento spirituale, non voglio sciuparti la sorpresa, e poi farai questi 12 esercizi in una cornice unica e radicalmente nuova, la solitudine in un luogo di ritiro in cui non sei mai stato prima, un'esperienza che probabilmente non hai mai fatto prima. in più, nelle istruzioni che stai per scaricare, ho caldamente raccomandato anche un tredicesimo esercizio, che a mio parere è anche uno dei più importanti in assoluto, che è la meditazione guidata. Ora, dove puoi trovare tutto questo? Prendi nota con attenzione, italocillo.it slash reset, mi sembra che la pagina sia molto semplice e molto chiara, e che offra tutte le istruzioni per scaricare gratuitamente tutto il materiale reset, cioè il ritiro rigeneratore. Ti raccomando di farlo più presto e soprattutto di mettere in pratica, cioè utilizzare questo regalo che stai ricevendo, non c'è niente di più brutto quando riceviamo un regalo, soprattutto utile per noi stessi, e non lo utilizziamo, lasciamo che vada sprecato. Quindi metterlo in pratica per il tuo stesso bene e per il bene degli altri, perché ogni progresso che fa uno di noi, nella propria realizzazione personale e spirituale, è un progresso anche per il bene di tutti gli altri. Quindi questo è il mio augurio per te, e questo è quello che ti invito a scaricare e a seguire le istruzioni e a metterlo in pratica, e ti faccio tutti i miei auguri affinché possa essere la migliore delle esperienze per te. Marco mi avevi chiesto una presentazione, così adesso non so se ci sono delle domande o se abbiamo già esaurito il tempo a nostra disposizione, in effetti qualsiasi domanda, voglio dirlo non perché non voglio rispondere a domande, se ci sono domande sono pronto a rispondere, però voglio dire che qualsiasi domanda tu puoi farmi sicuramente trova la risposta all'interno dell'istruzione, cioè su italocillo.it slash reset, quindi non fatemi domande che fanno parte dell'istruzione della pratica perché sarebbe una perdita di tempo per tutti noi. Detto questo ringrazio tutti voi per la vostra paziente attenzione e lascio la parola a Marco, che ringrazio ancora una volta per avermi dato questa possibilità. Italo grazie, grazie a te di questa possibilità con la P maiuscola che ci hai condiviso e infatti adesso sono impaziente di andarmi a scaricare questo materiale di ritiro e rigeneratore. E mi ha fatto pensare, mentre raccontavi mi ha fatto pensare, una volta stavo leggendo un libro di Carlos Castaneda in cui diceva che la maniera migliore attraverso cui realizzò la verità del fatto che poteva morire da un momento all'altro e che quindi era questo il momento in cui esprimere il suo potenziale e fare quello che doveva fare, gli ci vuole avere anni e anni per realizzare questa verità e poi, guidato appunto dal suo maestro che era Don Quammatus, scelse quello proprio di andare in albergo, in una camera d'albergo e restarci, lui ci restò due mesi e mezzo da quello che aveva raccontato, ma ovviamente come dire, le cose concentrate a volte sono le migliori. E però ecco mi ha rimandato proprio a questo, l'importanza di un momento di silenzio, l'importanza di un tempo di assoluta solitudine in cui quello che veramente non abbiamo realizzato in anni, come dicevano le testimonianze, in poche ore o in uno o due giorni può sbocciare magicamente dentro di sé. Quindi grazie ancora Italo, veramente, per questa condivisione di valore e grazie appunto per aver arrecato valore alla Self-Help Academy e spero di poterci rivedere in futuro per altre iniziative o collaborare in altre modalità. Quindi di nuovo un saluto da parte di tutti quanti, da parte mia e da parte di tutti quanti in sala. Grazie. Andando avanti, la prossima settimana, martedì prossimo, ci sarà un webinar che è complementare con il ritiro rigeneratore di Italo. Il webinar della prossima settimana sarà dedicato infatti a rallentare il più possibile l'energia del pensiero. Si chiamerà Nel cuore della mente e verrà rallentato, in quel webinar verrà, diciamo, mostrato il processo del pensiero andandolo a rallentare di migliaia, forse di milioni di volte per capire là dove nella nostra coscienza si forma il pensiero, si forma un'idea. Perché quello chiaramente è il momento cruciale, è il punto cruciale, riuscire a generare, a creare idee, riuscire a connettersi con un flusso di idee che veramente può direzionarci sul nostro flusso di vita. E quindi è simpatico pensare che nel ritiro rigeneratore, appunto, sicuramente o penso, immagino che sperimenteremo anche questa vicinanza assoluta con la nostra consapevolezza originale. Quindi di nuovo un saluto Italo se sei ancora in sala. Vi metto qui il link per visionare il webinar della prossima settimana, chi vuole chiaramente iscriversi è benvenuto. Un buonissimo, buonissimo proseguimento a tutti quanti, pieno delle realizzazioni migliori che volete per la vostra vita e per gli altri, per questa terra, per questo universo. Un saluto dalla Self Help Academy. Grazie Italo. Ancora un saluto. Ecco qua, italocilo.it slash reset. Perfetto. Di nuovo, un buon proseguimento da Marco De Biaggi, Riccardo Cruciani, il cofondatore della Self Help Academy e buonissimo proseguimento. Ciao.